Un colpaccio da 6 milioni e mezzo di fondi PNRR per il Comune di Pesaro che incassa 2 milioni e mezzo di euro per i progetti presentati per il bando Sport e Inclusione, ai cui vanno aggiunti i 4 milioni già conquistati per l'impianto Facchini, nuova Casa VL e futuro Centro Federale del Basket. Il Comune è infatti rientrato negli elenchi dei tre cluster del bando PNRR per il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione e rigenerazione di impianti. Abbiamo intercettato tutti e tre i cluster del PNRR, cluster 1, 2 e 3, il che vuol dire che andiamo a riqualificare nella zona delle 5 torri il campo da baseball all'interno del quale verrà realizzato anche un impianto per giocare, cioè un campo per giocare a calcio. Verrà risistemata anche la pista polivalente che prevalentemente viene utilizzata per il basket che è il campo Nike. Quindi diciamo che questa è la cittadella dello sport che verrà riqualificata. Nel caso specifico del campo da baseball ci sarà la possibilità di mettere un impianto per le energie rinnovabili. Quindi diciamo sappiamo quelli che sono i costi soprattutto per mantenere anche un campo da baseball. Quindi questo permetterà quell'energia di rimetterla in circolo non solo su quell'impianto ma anche su quello che è probabilmente anche il quartiere. Spostandoci alla zona della torraccia dove verrà realizzata la pista ciclorotellistica, anche lì diciamo è l'altro progetto che abbiamo presentato con il cluster del PNRR. Lì ci sarà la possibilità di illuminare tutta diciamo quell'area sportiva, di realizzare una struttura per il calisthenics, una palestra per l'arrampicata. Quindi diciamo un'altra parte diciamo dedicata allo sport che si amplia. Lì vicino abbiamo anche la Vitri Frigo Arena quindi diciamo un servizio anche per il quartiere della Torraccia. E l'altro siamo Casa WL quindi il progetto quello che si amplia della Federazione Italiana Pallacanestro. Quella zona sarà anche il centro federale per la FIP e quindi insomma Pesaro a tutto sport.